ciao ragazzi oggi facciamo un piccolo videino di anticipazione perché è arrivata una scatolina molto molto speciale c'è scritto made in spain cioè fatta in spagna e c'è la marca bear one che è la stessa che ha prodotto le bambole alissa anguria e infatti c'è qualcosa proprio che ha a che vedere con questo lissa tira fuori eccole qua sono le mini gorditos e si troveranno nelle edicole di calabria e sicilia quest'estate cos'hanno di speciale beh questa fascetta che diventa un braccialetto ma non un braccialetto qualsiasi ragazzi è il braccialetto di sylvia and kids alissa anguria ma poi quanto sono carini beh in italiano li potremmo chiamare mini paffutelli perché infatti hanno la faccetta paffutissima hanno il ciuccio che si può togliere e mettere e sono tutti diversi collezionabili proviamo il braccialetto diamo un po come ti sta che bello mi piace un sacco perché il disegno e le scritte non sono stampati ma sono proprio cucite li trovo veramente dolcissimi qual è il tuo preferito questo oh sì il vestitino è adorabile e poi ha la fascetta viola come il tuo colore preferito a me invece piace tantissimo questo che ha il pannolino e anche il bavallino quindi ragazzi se vivete in sicilia o in calabria o magari siete lì in vacanza al mare andate in edicola perché troverete appunto queste bamboline di sylvia and kids e di alissa anguria con un nostro accessorio ufficiale da collezionare e da indossare infiliamo i ciucci e collezioniamoli tutti ciao